Ciao ragazzi, finalmente siamo parten di Astral Neck Tracker quel programmino che mostra le percentuali durante le partite di vittoria, sconfitta, pareggio e anche degli eroi migliori a inizio del game quindi è il top del top, super consigliato potete scaricare dal link in descrizione Lui in teoria è forte adesso però bestia non morti cos'è l'Lich King? Allora, a seconda delle statistiche a 11.000 più, il migliore qua è l'Lich King va bene mi fido no, questo è ottimo best pezzo Rakanishu era leggermente più forte secondo me quindi voi ragazzi vi ribellate alle statistiche, secondo voi le statistiche di Aston Replay, il nostro sponsor non è spot, noi di cui abbiamo l'affiliazione sono errate, secondo voi non dirlo agli altri ah, faccio il divertimento no, ma le statistiche sono comprese anche tutti i player che non sanno giocare turno a champ in realtà bridge percentuale vittoria 11.000 più 11.000 più mi sembra notevole come MR per il size, no? Ciao turnone, domani maturità di informatica ciao Bert in bocca al lupo cosa la fanno la maturità? cosa la fanno l'esame di maturità per i periti informatici? io ho fatto lo scientifico tanti anni fa re dei league con i non morti è forte vediamo, vediamo, vediamo vediamo come performa grazie jungler merda questo è rimasto all'uno dai ma non si può vedere ma che giocata è? ok ok, allora prendo questo qui ok grazie mille è il love children's car game per il 23esimo mese quasi due anni quasi anniversario quello con te sono io ciao Kevin grazie mille del sesto mese grazie Kevin mi cazzo se non mi li a turno due ragazzi voi non li vedete contro di me non posso fare altro che darvi un time out di 600 secondi perché è il minimo che io possa fare dai mi perdo anche questo un 3-1 all'orale ti fanno vedere un'immagine come fare i collegamenti interdisciplinari con tutte le materie ah ok questo si però la prima prova com'è? questa cosa qua è ovunque no? la cosa dei collegamenti prima prova no la prima prova è il tema la seconda la seconda allora dopo un servitore rinaldo finisce l'attacco di questo servitore guardi ci sta è temato anche per Milhouse sì ma perché la gente contro di me non livella cioè tanto il buddy lo prendete lo stesso state tranquilli il buddy arriva il gold che prende risparmiare sul buddy cioè è ancora l'uno testo ma che è? no no ma veramente mi ha rubato Arfus così ma che culo con due airball tra l'altro culi mai visti Vez buonasera come ti stai trovando in sto meta questo questo o il gallo ragazzi cosa prendiamo? il gallo lo si può fare sul 25 e il 24 l'14 ci manda nella direzione non morti vabbè uno di due sicuro prenderei l'14 io qua non evoca due poi si rievoca ci sta questo va qui sì sì anche lui è non morto KT col drago non morto dovrebbe essere OP con il buddy è vero devo provare dopo dovreste avere qualcosa che lo triggeri però anche tipo un dovreste avere vabbè knight bank entusaz e poi tipo ah no beh sì no giusto barone o dracali sto per qua vabbè insomma si fanno un morto si si prova almeno mirkanza beccati sti danni te li meriti tutti e qui allora la rissaiola ci dà un non morto c'è un destratto quindi in realtà si può prendere questa ha mai senso livellare cioè fare tipo vendo lei vendo questo livello e gioco questa follia lui è livellato però però lui va a gigi oddio si potrebbe si potrebbe fare si potrebbe fare facciamo ragazzi lui è livellato cioè effettivamente noi al 3 cosa cerchiamo solo la forsaken grave robber cerchiamo niente si livella qua questo via questo via sarebbe da togliere 2 4 in realtà perché se no potrei prendere anche il neum melodico e fare una mezzanaga con queste però non cioè se no si prende loro due però con lich king dai si fa si fa qui due lì non lo so secondo me era meglio livellare non sono convintissimo in sto play era meglio livellare era la legge giusta quella iniziale GB grazie mille del nono mese se la direzione non era naga e grazie mille pure a biase del 14esimo grazie ragazzi grazie dei prime cioè ho vinto ragazzi ma cioè non ho la direzione lui ce l'ha in realtà neanche lui ce l'ha adesso vabbè magari trovo due malacca tutti direi oh abbiamo fatto bene quasi un annunciao turnone qua non trovo nulla qua fa tutto schifo questo non voglio questo non è buono questo adesso si due neanche parole ho fatto un nightbane 2-8 via questo via questo dopo quando il salitore 40 di morte è morto ottieni un oro questo in realtà è fortissimo ci sarebbe da prendere tutte e due grazie mille anche ad Angelo del decimo mese siamo vicini all'anno è la scimmia è la scimmia cioè sono tutti e due broken who's better who's better per questo turno la scimmia ma continua così forza ragazzi vi ricordo se il video vi sta piacendo di iscrivervi al canale con il tasto qua sotto potete attivare la campanellina se volete ricevere notifiche per i prossimi video e se proprio volete esagerare un commentino per l'algoritmo restare questo turno al 3 stacciare l'entato di un turno è stata una cazzata troppo così mi ha tolto un pezzo troppo così mi ha tolto un pezzo prendiamo lui e saliamo eh il discorso qui è vedi le nage già dovevo buttare mi ha ritardato di un turno una comp bisognava livellare il turno prima vabbè e chi salta? il 5-8 fa schifo 5-8 va qua buono va qua abbiamo la possibilità di prendere un taunt non so se ci interessa ci interessa se no è un roll quindi in realtà si potrebbe anche prendere e sullo scudo sullo scudo dobbiamo veramente farlo sullo scudo beh su Arfus non ha senso lo scudo il punto è che sia lo scudo sia non melodico sono pezzi che secondo me a breve salteranno sarei quasi per tenermelo in mano nel caso trovassimo Moroes che poi non so neanche se è stato giusto qua a salire cioè avevo i soldi sono salito è più che alta perché forse ci potrebbe stare a salire il turno dopo con la tripa di Arfus e grazie anche a Daniello 1998 grazie del Prime ora hai due abbonamenti famiglia chi è l'altro? chi è l'altro Metil? il rotto era medio terzo vabbè lui c'è il buddy devastante oh oh mi ricordo che rimanga il buddy taverna 6 che vuol dire prendersi 12 danni vuol dire andare sotto il capo disastro mi è arrivato troppo in fretta anche a sto game vabbè tripa di Arfus miss rocciarocca che d'attacco a tutto un giro di rocciarocca oppure di Nala Nala baffa questo baffa questo forse Nala è più forte Nala è più forte questo è un pirata oddio si rolla spell si use cioè potevi fare 5 quadri fare comunque un combo con questo ma un'altra build io qua un altro 2.8 vabbè lui se ne deve andare questo anche un altro 2.8 un altro 2.8 bella merda posso prendere il 3.9 mi sembra lentino però mi sembra tutto lento qua ehi stai davvero creando una grande armata buona battaglia allora era meglio che c'è te noi Shubagabra sembrava forte buffare l'Arfus col Shubba ok ok ciao vero ok ottimo ciao GB grazie bentornato turnone da oggi si tifa Mirkanza Mirkanza dove sei vieni fuori si impari a livellare allora grazie mille Kratos grazie del decimo allora ragazzi abbiamo i soldi li abbiamo cosa vogliamo fare adesso potremmo fare Reborn su Arfus Reborn sul Shubba Reborn ci sta perché comunque il Shubba che si prende 25 attacco è ok eee abbiamo Anteo di morte quindi in teoria salta questa che non ha molto senso bisogna trovare altro noctumor non credo di poter livellare qua prendo questo rolliamo spell questo non ha senso spell neanche roll questa qua di scovere non si può stare di scovere non è morta in teoria 4 non morti 2 bestie si dopo Makao non scomba più con questo scovere un grido di battaglia ma anche io avrei scelto quello leggendaria sti infami hanno reso più complicato fare il primo ed iPhone ma nonostante tutto eccoci qua turna festa 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 ma così ma non lo so poche idee a sta partita grazie nel dubbio esce il quindicesimo grazie mille prendo aver 100 oh ogni schifo non fa che idee pompare Arfus sta volcando però il teschio conta come due servitori con rantolo il teschio era forte avete ragione era da togliere questo ed era più forte di testa d'ossa teschio era forte e althusad e althusad lo prendiamo si sdoppiamo noctumor proviamo a vedere se sono fortunati ci sentiamo fortunati oppure sdoppiamo il chuba via la scimmia chuba oddio allora non ci credo è stato fatto venuto in mano però però il problema è che così se non si vuole attrippare chuba si oh my god ci poteva fare di meglio qui ah cazzo ma io potevo farlo su entrambi ma sono coglione sono era dorato madonna qua si dorme è dorato cazzo è vero vabbè 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 l'hai perso lo stesso forse no no ma sta build sta build non so non so usarla cioè adesso ho trippato questo no io posso posso fare rebone su questo spaccarmelo col tombarolo e triplarmelo e triplarmelo qua no fortissimo però non ce l'ho con il rebone turno dopo però è fortissimo come non lo rebone cioè se io faccio rinascita lo spacco non si sdoppia si sdoppia ehi fa figata posto più baccata però quello che è born anche a me non piaceva eccoti una moneta d'oro per il distruttore moro adesso lui e qua dovevo prendere e togliere quello ma il problema è che qua se io lo mettevo a reglietta avevo uno spazio in meno molto esotico il tutto è vero Vero, esatto, bravi Era più forte goldarsi con l'altro Questo andava tolto Allora, il discorso qua è che io adesso dovrei Allora, devo dare Reborn con l'agenda Cosa vogliamo sdoppiare? Che casino, allora Che casino, che casino Questo va tenuto, questo va tenuto Questi due vanno tenuti Questo va preso, da reborn a tutto Dove prendere anche la seconda reglietta In teoria è più forte di questo Poi Questa per dopo Allora, quindi Tolgo il teschio Praticamente tolgo il teschio, il ciubacabra Reborn o noctumor No Ah, io voglio spaccarmi la gente con Kelto No? Con Kelto voglio spaccarmi la gente Che voglio dare reborn, questo sicuramente Quindi questo va via, entra lui E... Entra lui, quindi lo spacco Sdoppiamo in octumor È forse più forte Continua così, forza Merda È fortissimo strano Però mi metto qui un attimo Qual è l'incastro giusto Cioè, adesso la gente sarebbe da spaccare con la costo 2 Non sto sfruttando il Kelto's ha dorato Almeno Tutto 1 è tutto buono Comunque ha fatto due Due triggerate Però Cioè, si poteva sfruttare meglio i turni prima Vedete che era più forte il ghoul Mantieni la pressione Forse contro non morti sì Forse contro non morti era più forte il ghoul Io sentirei, bisognerebbe mettere quasi draccari Bisognerebbe quasi mettere draccari Cioè, contro non morti effettivamente non è bello questo qua Effettivamente non è così dato sta cosa Però Allora, se io metto draccari al posto di questo Lui da 919 Cioè, è più forte draccari che da 2 born qua Draccari è sicuramente più forte di questo L'evocatrice eterna è più forte di reietta Eh, c'è ria, sì Allora Nooo No, ho sbagliato l'order Ah no, questo va bene Però non ha preso le bonti così Che non ha preso le bonti dopo quando è morto questo Che non ha preso le bonti, raga Nooo Vai Perché l'ha preso l'accolita Sì ma poi l'altro Cioè l'ha fatto due volte questo effetto Dov'è finito il secondo Comunque Dobbiamo spaccarcelo questo Vendiamo Keltuzad Piazza due evocatrici Ah lui ha quitato What ok Sì facciamo così Andiamo all in Vai Vabbè Ok tutto rebornato Però ho messo male il positioning Perché ho fatto tutto in 20 secondi Una bit che non so neanche far bene Chiaramente era da mettere Da evocatrici eterni prima del chubacabra Comunque è andata comunque bene Che abbiamo attaccato prima noi Quindi abbiamo fatto le borne in più Oh Eh vabbè Abbiamo perso mi sa No Posso darti un amato No Però non abbiamo neanche vinto Allora Però ci sai fare Qual è la play adesso Ci sta mai mettere Leroy Prima di qualcosa Ci sta a togliere Taunt Forse Mettere taunt Leroy tauntato Leroy sembra buono Infatti Forse è Noctum 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 È il peggiore In realtà Ma perché abbiamo così poco tempo Ma che cazzo è Lui non ha vita Quindi via questo Continua così Forza Allora Era meglio tenere Noctum Comunque togliere L'oreglietta Però come vedete L'attacco Non sembra servire Allora Boh Stiamo vincendo una partita Abbastanza confusa Perciò Togli sono della nostra Scudare Arfus È stata una player Broken Una vita Quindi in teoria Finita È questa roba forte Bella Ma Penso che sia stato Uno dei primi posti Peggio giocati Che abbia mai fatto Ma per essere appena Tornati dal TwitchCon Ce lo acqualliamo Torniamo anche a 12k Ossigeno C'è un po' di l'oreglietta Chissà Ossigeno